buongiorno buongiorno a tutti carissimi buon venerdì mattina ed è il primo d'aprile questa è la rubrica una settimana d'ordinaria follia allora io spero che le notizie che oggi vi offrirò e andremo ad analizzare siano uno scherzo un pesce d'aprile e non siano l'ordinaria follia che stiamo osservando ormai da due anni in maniera intensa intensa veramente folle però diciamo che l'hanno preparata in decenni e noi ce ne eravamo accorti dato che ce ne eravamo accorti eravamo e tuttora comunque dei malati di mente complottisti sapete quella gente lì che crede in cose strane oggi leggeremo alcuni articoli mi tolgo un po lo sfizio ma non so se serva comunque ci sono degli articoli che praticamente confermano perfettamente quello che dicevamo più di due anni fa il credito sociale l'intelligenza artificiale che sostituisce ruoli chiave centrali quando lo si diceva due anni fa tutti i giornali scatenati ci sono dei deficienti in rete che dicono cose assurde ora lo pubblicano loro e la gente che cosa fa sta zitta ma magari è progresso no è il pesce d'aprile sigla e facciamoci prendere per il culo un'altra settimana sigla allora carissimi partiamo dal primo notizione dato che il pesce d'aprile primo aprile eccoci qua corriere della sera green pass mascherine scuola cosa cambia le regole covid non vi piace un altro articolo così cioè mentre praticamente il 99 per cento del mondo ha sbloccato tutto da noi mentre in furia la guerra i giornali ci riempiono di gioia con bombardamenti fino al mondo il nucleare le profezie repubblica il giornale pubblicano profezie del passato è un momento veramente magico mistico profetico e mentre c'è questo clima sereno molto spirituale poi vedremo alcuni passaggi di bergoglia della chiesa che veramente il top e non potevamo farci mancare in sottofondo questa cosa che continua cosa puoi fare cosa non puoi fare da domani apro non apro e la gente che sembra contenta c'è una parte di popolazione io spero che si riduca progressivamente ma sembra contenta di farsi dire dove andare quando andare cosa fare non fare mentre noi accogliamo decine di migliaia di profughi ucraini se mi sto venendo un blocco che praticamente in ucraina si sono vaccinati in quattro gatti perché forse avevano altri problemi il picco del numero di di morti per covid andate a vedere le notizie cioè i dati che riportano ufficiali l'italia è al top e stanno parlando della quarta quinta dose in ucraina sono fatti una dose in quattro gatti e ora facciamo entrare decine di migliaia di persone agli italiani parliamo di cosa togli cosa non togli forse la quarta la quinta dose e tutto ciò ci va bene cioè io credo che gli ucraini se dovessero rimanere qua un tot di tempo vedere questo paese spero che ci diano una mano a cambiarlo o probabilmente scappano perché vedendo tutto ciò dicono ma forse erano più normali là con la guerra guardate che cioè questi arrivano da un disastro e le prime cose che gli chiedono è tu ti devi vaccinare perché sai qua e poi puoi portare morti disastro se guardassero i dati prendo il fogliettino dei dati ufficiali europei un ucraino ti dice ma sei scemo avete avuto non so un'infinità di morti in più voi con tutte le dosi tu mi fai arrivare da una guerra la prima cosa che mi chiede di vaccinarmi o se no si cerca di ho visto altri articoli dove è sì però adesso siamo in una fase di discesa della curva non in questo momento non serve vaccinare gli ucraini anzi possiamo utilizzare i medici ucraini per sostituire i nostri che non sono ancora effettivi perché hanno deciso di non vaccinar pesce ad aprile primo aprile green pass mascherina scuola cosa cambia le regole andiamo avanti ragazzi o veramente andiamo avanti allora questa è una di quelle notizie che vi dicevo mi tolgo un sassolino dalla scarpa ma non so nemmeno se si accorgano certi personaggi il pentagono ufficiale l'indipendente fa un bel articolo se volete andate a vederlo vi ho già consigliato questo giornale l'indipendente io lo leggo su telegram e fa questo bel articolo riportando notizie da informazioni da diversi giornali americani comunque il pentagono si prepara a introdurre le macchine nella catena di comando militare ecco ho preso solo questo titolo perché vi ricordate chi segue questo canale da diverso tempo si ricorderà che ne ho parlato diverse volte ma in un video proprio ho parlato quando sono apparsi i primi cani robot vi ricordate che ci facevano vedere i cani poliziotto robot che negli stati uniti scannerizzavano monitoravano la temperatura tutto era per il covid e io dicevo ragazzi scusate ma c'è un chiaro progetto grande reset l'agenda 2030 cose tutte pubblicate però tu ne parli tu sei un matto ne parlano loro sempre in versione positiva l'importante dire che è tutto positivo loro vanno bene cioè i professionisti dell'informazione i nostri politici io dicevo benissimo lo sviluppo la tecnologia però occhio perché la sostituzione dell'essere umano con l'intelligenza artificiale con le macchine con i robot soprattutto in certi gangli della società del controllo del potere beh chi è sopra quel livello giunge ad un potere smisurato perché l'essere umano sarà bruttino puzzetta eccetera però c'è qualcosa di umano l'android e il cyborg una volta che lo progetti e gli fai seguire una strada la segue non è corruttibile certo non è corruttibile ma se colui che è sopra è corrotto quello sotto esegue ah beh facevamo tutte queste riflessioni complottisti la tecnologia è solo funzionale a misurarci la temperatura per il covid non lo so perché all'inizio vi ricordate era così c'erano cani robot intelligenza artificiale in azione cioè è utile per l'influenza per una pandemia il pentagono cioè non è che sia proprio la casermetta dei vigili urbani dietro casa mia no che come dici la sostituisce l'intelligenza artificiale quasi qua il pentagono si prepara a introdurre le macchine nella catena di comando militare tutto ciò mira serena seconda notizia che così corriere di bologna l'agenda di palazzo da cursio ci sono tre r cursio secondo me ne avrà due penso bologna la patente digitale per i cittadini virtuosi punti e premi e un'app con tutti i servizi quindi è tutto figo no loro te la mettano sempre così è esattamente l'inizio del discorso che facevamo due anni fa vedendo attraverso uno speciale che aveva proposto mi sembra il tg3 comunque aveva guardato attraverso uno speciale approfondito che veniva dalla francia l'applicazione del credito sociale in cina insomma non era proprio il massimo dopo se la gente piace che butti la cartina per terra io lo so non è bello buttare la cartina per terra ma sapere che ogni cosa che tu fai è monitorata e su un telefono tac 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 ti vanno giù i punti con la patente che qua capite la patente digitale non vogliono ancora inserire il concetto di credito sociale ma è espresso nelle parole dopo per i cittadini virtuosi e chi decide chi è virtuoso ad esempio se vedremo adesso due articoli altri due articoli se io esprimo una cosa che è contro il potere ma è decisamente opinabile il potere mi può togliere i punti beh in cina ci facevano vedere di sì intervistavano mamma e figlia che avevano compiuto il crimine di aver protestato per delle degli sfratti in palazzi statali mi pare andando a memoria chi volesse può tornare a guardare quel mio video dove facevo queste riflessioni sulla cinesizzazione dell'italia l'italia come la cina e niente queste protestano tu spariscono i punti e non possono più comprare non possono più uscire dalla città non possono prendere un aereo viene disattivato il passaporto cioè praticamente rischi di finire in strada come un barbone bello non ti puoi trovare organizzare una manifestazione la vietano la vietano immediatamente bloccano i cellulari possono bloccare le carte il pagamento tutto normale c'è per questa massa di rimbambiti e vedo c'è un certo gruppo di persone in italia che ha aderito a questa a fanatismo questa ideologia questa follia dell'ipertecnologia gestita da degli oligarchi dopo dicono che sono solo in russia no noi non li abbiamo gli oligarchi no i bezos i big gates soros ma anche i nostri pagliaccetti che si sa che sono stati messi lì ad esempio trudeau in canada macron in francia l'ha detto serenamente schwab il l'organizzatore il responsabile del forum di davos a sono tutti i nostri uomini sono tutti uomini del nostro gruppo beh benissimo questi da dove saltano fuori dalle democrazie dal popolo che li ha eletti no saltano fuori dal forum di là dal world economic forum da quei circoli lì quindi non sono persone calate dall'alto punto di domanda e ad un certo numero di persone che in realtà da tutto ciò hanno solo ne hanno solo da perdere piace quindi bene entrate nel mondo dei virtuosi puntini premietti trattati come dei bambini dall'asilo non si esce mai io dico solo che questa cosa l'avevamo analizzata due anni fa io come tante altre persone che però o vengono non ascoltate o vengono proprio aggredite derise umiliate prese in giro dai professionisti delle informazioni che in tutto ciò che accade vedono solo meravigli allora andiamo avanti con le meraviglie guardate qui appunto questo soggetto la 7 la 7 è una tv dal mio punto di vista sconvolgente cioè dovrebbe trasmettere solo il primo d'aprile con scritto sotto è una presa in giro guardate il soggettino sereno lui sta bene si vede che sta bene le dure parole di giuliano cazzola contro papa francesco cioè io ormai attraverso questa tv ho sentito delle cose allucinanti parlare ad esempio galimberti che ad un certo punto auspicava in una sorta di tiranni draghiana che galimba galimberti stai sereno ce l'abbiamo già il draghistan ce l'abbiamo già comunque in tv diceva se è un momento di crisi serve l'uomo che comanda e basta il parlamento chi se ne fotte il parlamento questo qua arriva a dire nel mio piccolissimo piccolissimo io ti vedo ampio cioè di coscienza vedi l'ampiezza nel mio piccolissimo di cattolico praticante vedete lui è cattolico e praticante quindi state calmi voi che non praticate mi vergogno del papa allora ho detto questo alla 7 uno che dice il papa che è sempre celebrato dalle tv dalle sinistre dalle sinistrate questo papa è adorato detto mio dio è arrivato uno che è praticante cattolico quindi si vergogna magari del papa che permette alla cei di dire che non ci si può neanche scambiare l'ulivo perché il virus forse lo vedremo dopo notizia di dopo magari si vergogna perché si sta occupando più di questioni politiche come un politicante che non lo so sapete che ci sono state alcune bergogliate piuttosto dure per i cattolici di un tempo no no alla 7 che cosa arrivano a dire c'è bergoglio che è uomo già abbastanza del mondo si deve vergognare perché un giorno ha detto qualcosa davvero uomo vicario di cristo cioè mi viene da piangere o da rire nel mio piccolissimo di cattolico praticante mi vergogno del papa se lui si vergogna del 2 per cento del pil speso in armi porca paletta ragazzi ciuffo selvaggio cioè il papa l'ha chiaramente detto vi ricordate nella rubrica della settimana scorsa settimana dell'ordinario della follia vi ho mostrato come i giornali continuassero a riportare una posizione del papa e un'altra posizione il papa ha aperto le armi papa no ha chiuso delle armi allora bergoglio in un ultimo incontro pubblico è incontestabile ha preso posizione e chiaramente ha detto è una vergogna questo aumento delle armi in un momento in cui il mondo ormai globalizzato dovrebbe andare verso un incontro dovrebbe andare verso tutt'altra direzione l'ha detto papale papale non si può discutere e cosa fanno loro prendono quest'uomo vero cattolico questo è un vero cattolico praticante che si vergogna di questo papa che disprezzo c'è un papa che è contrario ad investire il 2 per cento del pil prodotto interno lordo italiano che già sapete canna boom in armi no abbiamo avuto due anni di pandemia giusto il primo d'aprile cosa apri non apri c'è il dramma c'è il virus sugli ucraini arrivano qua vanno vaccinati non investiamo il 2 per cento del pil in salute in prevenzione ma figurati in armi e lui mi piace la sette mi piace ma andiamo avanti andiamo avanti cinque appunto eccolo qua cioè non è che c'è qualcuno in tv che dice ma la cei i vescovi vietato scambiarsi il ramo d'ulivo per la domenica delle palme la cei raccomanda che tutti tengano il proprio ramo d'ulivo evitando consegno scambi d'armi scusate scambi di rami no no se fossero armi lo scambio di armi va bene ma non scambiatevi i rami questa è la mia venuta inconscia è un lapsus freudiano le armi secondo la cei ve le potete scambiare ma i rami d'ulivo no perché sono contagiosissimi io dopo questa questa sorta di lapsus chiudo questa notizia andiamo alla 6 allora russia sull'orlo di una crisi di nervi no sanitaria continuano con queste notizie a rischio anche la fornitura di farmaci salvavita guardate le immagini c'è proprio tristi no la cameretta di una bambina con la non lo so cosa sono cose macchinari sanitari sofferenza giusto poi avete letto un po gli accordi le posizioni che stanno tenendo colossico e la cina l'india addirittura l'arabia saudita che non risponde a biden l'iran la turchia che cerca di mediare erdogan che cerca di mediare ma rimane aperto perché non vuole perdere tutto il mondo orientale e questi colossi questi giganti le mosse strategiche economiche della russia rapidissime e potenzialmente estremamente efficaci in risposta alla sospensione del sistema di pagamento internazionale americano ma loro professionisti dell'informazione quelli che il ramo d'ulivo non scambiarlo male armi scambiamo nel 2 per cento diamolo in armi sono preoccupatissimi per la sanità e per la situazione economica russa bene l'europa l'europa basta dire agli italiani e agli europei che va tutto bene poi però così appare un'informazione l'unione l'europarlamento al servizio dei cittadini questo sito vabbè lanotizia.it giù la fiducia dei consumatori nell'unione europea ai minimi le attese delle famiglie cioè non riescono proprio a non dire che c'è una sfiducia una come si può dire una disillusione profonda verso questa europa ma ciò che mi fa veramente morire da ridere è che tra le maggiori economie europee l'esi cala con decisione in l'esi l'esi è la il sentimento economico nell'eurozona fanno questa valutazione l'indice del sentimento economico è una descrittore della situazione economica presentato ogni mese dalla commissione è basato sulle risultanze di 5 indicatori consumatori industria servizi costruzione e commercio al dettaglio ok brevemente il senso è questo qua è forte chi è che ha perso fiducia nell'europa? l'italia direte devastazione è la più legata all'economia russa quello che è successo il governo che sta andando spinto verso discorsi di aumento della spesa militare mandiamo armi letali in russia direte l'italia non sta bene il maggior numero di morti per covid il maggior collasso delle imprese no cala con decisioni in francia almeno 7 in spagna almeno 6 e 5 in germania almeno 4 e in maniera meno marcata in polonia meno 3 e in italia gli italiani sono quelli che sono rimasti un po' meno delusi meno 2 meno 2,6 in italia quindi gli italiani sono quelli meno delusi dalla situazione europea allora forse ho pensato i professionisti dell'informazione fanno davvero un buon lavoro cioè hanno talmente bollito la testa della maggior parte degli italiani che nonostante l'italiano stia appunto affogando è convinto che sta andando a trovare delle perle in profondità tutto insomma va bene andiamo verso la chiusura ragazzi perché la questione qui è pesce d'aprile è il pesce d'aprile bene carissimi io direi che qui ci possiamo veramente fermare avevo messo un altro 2-3 cose vorrei chiudere solo con questa notizia qui perché ne vale la pena Repubblica ci riporta bimbo scappato di casa scappa di casa a due anni lo ritrovano i carabinieri e lui dice io sono Batman vi rispondo solo in cambio di cioccolata ecco io credo che se si diffondesse un po' più questa consapevolezza secondo me le cose veramente cambierebbero io vorrei che gli italiani fossero non so un 90% degli italiani avesse in mente avesse di sé questa idea di essere un po' Batman e di rispondere solo se ci danno cioccolata buon primo aprile e ci vediamo domani mattina con 5 minuti oltre le nuvole un abbraccio a tutti ciao